Questa città è? Che cavolo! Adesso vado alla macchia e si fa entrare in marco Prima gli ho fatto i testi, i due dei mai quanti iri vedo la domanda Si passa a scrivere ilー Nothmore Ok, io creo il patto No,, non è successo Attraverso qui ne ha curioso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.